Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video del The Shared Gaming, io sono Favij e qui con me c'è... Hai puffo! Hai vestato! Ti è muncato tutto in te! Madonna! Vabbè, comunque eccoci finalmente in Naufraghi number 3, l'acclamata serie da tutte le tv mondiali e non! Con questo bel tramonto e adesso, in questa puntata qui, daremo direttamente la svolta alla serie, ovvero fino alla fine di questa puntata lasceremo l'isola con le nostre zattere da naufraghi. Saranno barche, però le ammacceremo un pochettino per farle sembrare le zattere, così almeno è più reale. Non si possono ammaccare. Ah, ma non si può tirare di due botte per sicurezza. Comunque, ok. Niente, cosa faremo in questa puntata praticamente? Notate con gli stessi oggetti dell'altra puntata, perché noi non andiamo avanti se non registriamo, giustamente. Giustamente. Dobbiamo rivelarci gli oggetti inutili, tenere quelli più utili e scappare, nel senso che adesso andremo nelle miniere a prendere dell'oro e del ferro, farci la bussola, la mappa, tutto quello di cui abbiamo bisogno e poi partiremo. Comunque, non so se avete notato, ma sono cambiati i suoni delle porte, delle casse. Sì, è vero, sentite? La roba è. Ah, boh, dopo questo piccolo appunto continua. Comunque, sembra arrugginito. Eh, è buono. Può essere arrugginito al legno, è un mistero. Comunque, andiamo a cosa abbiamo, è tipo la sella che non serve assolutamente a una minchia, questo lo buttiamo. Ah, per, per, mi calca le maiali. Minchia, sai che utile. Perché non ci sono. Via dalle palle. Allora, è buio, quindi direi di affrettarci. Allora, andiamo di sotto a raccogliere tutti i materiali possibili per poter poi scappare da qua il più possibile. Adesso, Ipuffo smonterà un pochettino di sopra, mentre io inizierò già ad andare di sotto, poi ci raggiungerò. Ah, tra l'altro dovresti uscire poi a fare le canne alla pesca, se vuoi. Ok, sì, lascia tutto lì. La ticca sono là dentro. Sì, sì, lascia tutto lì, tu vai giù. Cerro le torce. Ah, già, sì, coglione. In teoria sì, se ce l'hai sì. Aspetti, dai, un po' di stecchetti. E di carbone. Quanti te le faccio, va? Facciamo prima. Allora. 72. Ok, vai, a posto, dai. Bo, vai, io te le aggiungo dopo. Se c'hai il cibo tu. Ho una brioche. Dammi una brioche. In gatti e mi la mangerò. Va bene. Ok, a dopo. A dopo. Ragazzi, so che questa caverna la conoscete già benissimo, però questa è l'ultima volta che la vedrete, per la gioia. Predrette. Sì, sì. Allora, dobbiamo trovare, ti ricordate tutto l'oro che abbiamo lasciato indietro? Bene. Da prendere tutto quanto. Eh, sento già dei rumori, dei loschi rumori. Eh, sì, anch'io. Io vedo dei loschi individui. Morenti. Aia. Croissant. Croissant. Bene. Carbone, sì? Serve? Eh beh, direi. Direi proprio di sì. Allora, andiamo poi a prendere anche il carbone. Prima però. Tipo il ferro. Ragazzi, mi dispiace per voi, ma sto togliendo di gran violenza il sistema altamente tecnologico, difensivo, a cane da zucchero. Eh, ma lo dovremmo portare con noi per... Sì, sì. Eh, infatti, cioè, lo vedrete in una modalità un po' più, come si può dire, rivoluzionata. Stay tuned. Allora, ragazzi, volevo soltanto dirvi, abbiamo già tirato giù tutto, abbiamo praticamente scritto l'ultima... Ah, ma io non c'ho il piccone di ferro e voglio prendere l'oro, giustamente. Quindi arrivo a prendere il piccone di ferro, I'm coming. Scusate, fail. Comunque, nel frattempo che vado a prendere il piccone di ferro, volevamo dirvi, nell'ultima puntata, la quarta, che abbiamo già tirato giù praticamente quasi tutto, ci sarà una partecipazione speciale, alla fine. Molto speciale. No, chiaramente sto scherzando, questo pezzo lo taglio. Praticamente... Ah, guardate, c'è già il piccone di ferro, che è il nostro buon ai puffo. L'ho fatto io con le mie manine. Vabbè, dicevo. Sì, comunque, nell'ultima puntata sarà talmente bella che purtroppo non la... Cioè, la faremo in live, però la faremo a spezzoni. Cioè, non sarà un pezzo unico di video, come vedete adesso. Sarà un piccolo film, tipo. Cioè, no. No, sarà tipo in live come adesso, solo che ci saranno tipo delle transizioni che dove scorreremo... Cioè, dove faremo vedere il pezzetto un po' più avanti. Sarà una puntata un po' più elaborata, visto che è l'ultima. Esatto. E allora... Ma molto più elaborata, ragazzi. Sarà forse uno dei più bei video di... No, no, guarda. Non vorrei esagerare, però... Potrebbe essere uno dei più bei video di Minecraft che abbiate mai visto. Più che altro per l'idea. No, di tu. Anche perché l'abbiamo pensato durante l'ora di inglese, quindi... Voi dovete capire che più avanti lo faremo vedere. Noi non abbiamo i quaderni di scuola, ma abbiamo i quaderni di... No. Cioè, lui... Io, il quaderni... Il quaderno in inglese che al fondo ha tutte le idee che abbiamo buttato giù. Eh già, perché le pagine in inglese sono due e nel TSG sono 7-8 per ora. Siamo solo in inizio anno, eh. L'abbiamo proprio buttate giù dal balcone le idee. Allora, ragazzi, abbiamo preso tipo tre, solo tre. Tutto sto bordello l'abbiamo presi solo tre. Allora, andiamo avanti. Ah, ma è... Io sto smandellando via l'entrata. Smandella, smandella. Allora. No, qua non c'era nulla. Allora, dovrei ricordarmi le mie vecchie puntate, dove ho visto... Che c'era tipo... C'era uno zombie. Oro. Madonna, io mi ricordo che c'era un punto che abbiamo intravisto che era pieno di oro. Tra l'altro molti ci avevano segnalato, cioè... Del diamante. Del diamante. Ma ragazzi, guarda che non c'è. Ehm... Sono andato a vederlo in single. Tipo, ho preso il mondo, questo qui. Tra l'altro, per quelli che ci chiedono di mettere il mondo, di pubblicare il seed del mondo. Perché questo è anche un seed. Dal codice che mettete all'inizio della creazione del mondo, potete ricavare la nostra isola partendo da zero e lo rilasceremo alla quarta puntata. In più rilasceremo anche il salvataggio proprio del mondo. No? Quindi, boh, chi lo vorrà... Potrà scaricarselo, perché molti ce lo chiedono. Dicevo, qua ci dovrebbe essere un passaggio... Una porta, uno scheletro... Aspetta. Hai rotto le palle. Ecco, qua doveva essere tipo il diamante che avevate detto. Era... Ecco. In questo punto qui. Dove? Dove lo vedete? Vedo un enderman. Forse l'avete confuso con la... Con la... Con il grave, tipo... Vabbè. Wow. Un po' difficile. Sì, perché non si vedeva bene, tipo, non lo so. Oddio. Ho sentito... Psss. Allora, ho sentito anche io, cazzo. Non mi ricordo il punto. Madonna mia, ma si può, mica. Mi ero detto, mica, devo andare in questo appunto qui. Intanto che fa VJ muore, volevo... Volevamo... Era tipo... No, non era. Volevamo ringraziarvi di nuovo per tutto ciò che state facendo. Va, va, allora, ragazzi, noi, cioè... Non andremo avanti tanto con questi ringraziamenti. Però ve li stiamo portando... È finito il sushi. L'ho mangiato. Ve li stiamo portando avanti, diciamo, perché... Cioè, non è successo così, veramente. Non era qualcosa di... Inaspettato in tutti i sensi. Non ce l'aspettavamo mai più. Non è successo così. Perché prendo i lapislazzuli? Che cazzo servono? Eh, niente. Va, occuparmi l'inventario. Eh. Fan figo. Cioè, c'è un... Oddio, uno spawn point. Ho trovato... Oddio. Ho trovato uno spawn. Eh, bravo. Eh, grazie. Mi si erotata... Mi si erotata... Oddio, no, no, no. Mettici... Mettici una torcia sopra, così uno spawn. Mi si erotata la spada. Mi si erotata la spada e c'è uno spawn. No, no, io ho qua schiatto, raga. No, devo romperlo. No, ma mettici un codo dentro. Una torcia. Prima che scavo qualche altro zombie. Ti prego, rompiti, rompiti, rompiti. Ok, i pane. Perfetto. Coco Beans. Che servono? Coco Beans? No, per fare i biscotti. Mi pare. E la Redstone. Oddio, ma no. Basta, zombie. Vi prego. Zucca. Sei caduto, stronzo. No. Anzi, sì. Il ragno serve per le ragnatelle. Quindi schiatta maiale. No, ragno. Che maiale. Io confondo gli animali. Vabbè, un maiale a far mai ragno. Non l'avete mai visto? L'uomo, orso, maiale. Il ragno, orso, maiale. L'uomo, orso, maiale. Niente, io non riesco. Ok. Non so se è il caso di inoltrarsi ancora, però. Madonna. Quanti zombie. Aspetta, allora io provo a fare questa roba qua. Nel caso non riesca. È stato bello conoscervi. No, sinceramente penso di uscire. Parale da Dio. Di Favij che... Teme la morte. Il video di Skyrim che avete visto tipo un paio di giorni fa. Due o tre giorni fa. Praticamente, ecco l'altro oro. Praticamente l'abbiamo fatto giusto per farvi vedere come Skyrim. I video seri li faremo più avanti. Se vuole era... Molto prima. Madonna, Favij Terminator. Mi ha distrutto il cross. Stai morendo? Stai morendo? No. No. Io morio mai. Boom. Boh, morto. Io non muoio mai. Boh, morto. Tocca a ferra. Vado, quanto carbone. C'è anche un ragno laggiù. Allora, mica, chissà che non troviamo tipo il diamante. Mi sto addentrando troppo. Però, in alternativa, anche se è una cosa che mi avete altamente sconsigliato, uscirò la vecchia maniera. Maniera, perché purtroppo, ragazzi, dovete capirci. O usciamo la vecchia maniera? Di giacera? No, 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 no. Per carità. Ah, ok. Tra l'altro è meglio partire in una zona, cioè, in un tempo, diciamo, quando siamo vicini alla notte. Questo per dare l'idea di, non lo so, una fuga. Una fuga dal nulla. Eh, già. Secondo l'orologio di New York è il Big Bang dell'Inghilterra. Sì. Sono le... Aspetta, ma ti faccio un calcolo rapido. Mezzogiorno. Madonna, ma devi fare... Le dieci. Boh, le nove, nove e mezza. Sì, ma sto oro, ragazzi. Cioè, io po... Oddio, che stagno. Ah, tra l'altro, vi ricordate che mi avevate detto che con 24 di... Di... Vana. Di... Spago. Eh, sì, di dragnatele. Ecco. Ma VJ è esplodato. Mio Dio. Madonna. L'isola non c'è più. Non c'è più l'isola. Non c'è più niente. Ragazzi, l'isola è scomparsa. Purtroppo. Tu torni giù? No. No? Adesso torno. Praticamente... Spade, 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 spade. Era tutto programmato, raga. Non vi preoccupate. Ovvio. Era una morte molto... Strategica. Strategico. Io sto seriamente morendo. Non c'è più la casa, raga. Diciamo che ho avuto un'esplosione ravvicinata. Un'esplosione, sì. Del terzo tipo. Sì, sì. Oh, c'è la mia roba. Visto? Io ti consiglio di salire sopra perché... Dici? Ok, ragazzi, niente. Via. Via, via, via. Dio. Madonna. Allora, abbiamo tutto oro? Sì, dai. Basta così, ragazzi. Di te. No, non ti possono rispondere. Ah, no? Beh, io li scopo. No, mi sapevo di no. Già. Ci sono rimasto male, scusate. Davvero, non potete. Vabbè, scrivete nei commenti, poi io lo leggerò e mi tornerò indietro nel passato. E farò la cosa giusta. Comunque, che dici, salgo? Eh, sì, sì. Perché ho paura di schiattare davvero, eh. Ragazzi. Sono esterno... Cioè, tipo quando sono morto. Sono stato un'ora zitto. Perché ero... Ero... Ero rimasto in merda. Allibito. Cioè, mica non... Allibito, hai imparato monotermi, eh, raga. Ragazzi, mi piace perché ho studiato, eh. Ho studiato italiano, wow. Ok. Ma è già ora di partire. Ebbè, sì. Partiamo? Sì, dobbiamo scappare. Scappiamo dall'isola. Ma è, diciamo, un appostamento un po' notturno. Siamo di notte? Non molto. Siamo in piena notte, sono l'una di pomeriggio. Ok, infatti, beh. Chiudi le serrande. Bene, ragazzi, l'isola è andata. Ok. Questo posto meraviglioso. Benissimo, ragazzi. Guardate. Io per onore e rispetto a... D'onore e rispetto Italia 1. A questa isola che praticamente ci ha fatto compagnia anche nelle sue difficoltà per questa serie. Io la chiuderei come se... Cioè, praticamente come l'abbiamo trovata. Perché noi abbiamo trovato l'isola che la Roo ci ha messa così. Ovviamente. Giusto, con un cartello dentro. Sì, sì. E le torce. Ok. Aspettate, devo fare una cosa. Ho preparato tutte le barche. Ah, la canna. No, ragazzi. No, non possiamo partire. Mancano. Che stai facendo? Qui... TSG was here. Metti anche tipo le... Le stanghette che segnano le settimane che abbiamo passato. No. Comunque, ragazzi. Io veramente... Questo diciamo che come commentary è un episodio, tra virgolette, cuscinetto. Nel senso che è l'episodio che facciamo per introdurre il quarto e ultimo. Che sarà qualcosa di incredibile, ragazzi. Quindi vi... Veramente ve lo consiglio. State... State... Aspettatelo. Ecco. Sì, non dico parole inventate. Aspettatelo perché sarà stupendo. Cosa è scritto? Quanti? Giorni? Tipo... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Ah, madonna. Mi hanno passato la vita qua dentro. Vabbè. E ci lasciamo anche un fiore. Sì, perché siamo morti qui, in teoria. Gente... Ok. La gente verrà... Magari le scimmie che conquisteranno il mondo... Capiranno che... Noi eravamo qua. No, non profanare la tomba. Per confondere le idee, butto giù il cadavere di Aipuffo. No, ma... Arrivo. Basta, andiamo. No, no. Addio. Bene, ragazzi. Qua possiamo tranquillamente partire. No. Tra l'altro sono... No, sono caduto. Ma si può... Oh, miga, ti ho messo un cubo sopra la testa. Eh, no. Ma cosa stai facendo? Cos'è? Hai un piano di fuga. Ma cos'è? Un piano di fuga... Ma tu che ci fai qua? Che ne so. Vuoi vedere il tuo piano? Hai profanato la tomba. Hai puffanato. Vabbè. Hai puffanato la tomba. Comunque. Dobbiamo fare... Niente, dobbiamo fare la bussola, ragazzi. Tu sai come si fa la bussola? Ehm... No. Tra l'ospedia moment. Scusate un attimo la pausa, ma... Devo raggiungere il... La lista... Di... Allora. Qua dice... Aspetta. Scusate un secondo se c'è la pausa, ma... Devo leggere. Allora. Occhiali. No, scherzo. Occhiali. Non la trovo. Dov'è? Ah, eccolo. Bussola. Allora, bussola. Ok. L'orologio, ok. E la mappa... Minchia, la mappa... Ragazzi, abbiamo occasione di poter utilizzare la nostra... Il nostro sistema difensivo di canne. Quindi, metti pure a terra, Luca. Ok, sto pescando. Facciamo te lo Sanpeo. Tirami le canne. Grazie. Fa VJ. Creo io. Crea tu. Crea tu. Ok. Allora. Non mi ricordo. No, scherzo. Allora, aspetta. Sta calando la notte. È tempo di... Di scappare. Aspettate, ragazzi. Dobbiamo prima prepararci bene, perché se finiamo nella merda... Non avete idea di cosa ci sarà. Minchia. Io, guarda, ho una voglia di dirvi cosa ci sarà nella prossima puntata, ma... Perfetto, non funziona. No. Non mi ricordo cosa c'era in mezzo. No. L'orologio. No, la bussola. Grande. E l'orologio come si fa? No, scherzo. No, la bussola devi fare. Giusto, giusto. Allora, devo fare così. Bussola e... Lo so, lo so, lo so, lo so. No, ma devi fare bussola con la zucca. La zucca. Passo. Allora, da zucca. Con la zucca. Allora. Allora, da zucca. È necessario. No, tanto basta. No, no, non sarà. Tanto guardiamo il sole. Ok, ragazzi. Questo è successo? Mi sono buttato. Ma sì. Fatto una cat. Oddio. Io, io, io. Mi ha spawnato. In acqua mi ha spawnato. Ecco la mia spawnata. Sei laggiù? Allo spawn? Ecco, ti ho l'energia. Hai preso la mia... La roba. Hai preso la roba. Ho preso tutto quello che potevo. Allora. Vieni qua a prendere. Io butterei tutto quello che non ci serve per il viaggio. Allora. Ender pearl. Vaffangulo. Paper. Niente. Ci abbiamo le canne a zucchero. Sto buttando le cose più utili. Più? Ma come? Sto scherzando. Allora. Allora. Piconi. Ok. Favi dei burlani. Eh sì. Ciocco beans. Te lo puoi infilare. Ok. Seed. Servono tantissimo. Una porta. Vabbè. Pane. Formaggio. Formaggio. Croissant. Ok. Praticamente abbiamo il sacchetto. Avete presente quello col bastoncino? Il sacchetto che si portano i vagabondi. Ok. Ok. Vita dai. Adoro cosa ci è servito. Ma che ne so. Però l'abbiamo preso. Dov'è? Cos'è che dovevo prendere? Ah eccolo. Non la trovavo. Perfetto. Vediamo la mappa. Madonna che fantasia. Se consulti la mappa c'è un cerchio blu. Passa. Passa. Dove sei? È davanti a te. Ma hai sbagliato. Ma la bussola non dovrebbe segnalare lo spawn? Sì. E perché non segnala di là? È perché... Secondo me hanno cambiato questa nuova patch. Ma qua è pieno di roba Luca. Ah ma quello che avevo buttato io ragazzi. Ma tipo... Ci ho messo un'ora a scegliere. Ma Gap te la devi caricare la mappa. No guarda il basso. C'è un cerchio d'acqua e basta. Eh infatti. È perché è già strazoommata. Vai lancia. Buono dai. No guarda se a te ti vede lo spawn laggiù. No me lo vede laggiù. Là me lo vede. Eh infatti anche a me. Bene ragazzi. Inosservati in questo modo io direi che possiamo andare. Quindi lasciamo un ultimo omaggio a questa isola. Ringraziamo quest'isola. Cioè ringraziamo l'isola. Grazie isola per averci ospitato. Grazie a lei che abbiamo raggiunto tutto questo successo. Madonna. Bene. T.S. La G non ci sta. Quindi è pick fail come al solito. Ah va c'è. Ah va c'è. Ah va c'è. Aspetta eh. Ripeto ragazzi. Questo qua è un video di diciamo introduzione. Per la. Per la quarta puntata. Dovete assolutamente vederla. Dovete profanare la tomba. Dovete profanare. Ok. Ragazzi. Si vede? Si si vede. Sembra una torta di compleanno un po' troppo grande. Però andiamo dai. Toffie le candeline. Toffie le candeline. Mi sa che non si spegne. Vi lasciamo le torce. Visto che è bravo. Vabbè. Vi lasciamo le torce. No. No no. Vi ho messo per niente così. Ovviamente. Dai. Comunque. Non penso ci serviranno così tante torce ragazzi. Noi. Nella quarta puntata. Cercheremo di trovare. Diciamo. Ci saranno sicuramente degli spazi di terra. Come questo qua. Perché questo qua è diciamo. Non so se avete visto il film Waterworld. Come Madonna che pronuncia che c'ho. Praticamente. Era pieno di ogni tanto isolette tipo questa. Però per il resto era tutto. Un mondo d'acqua. Quindi. Diciamo noi cerchiamo proprio la terra vera. Quella. Come se non. Non ci fosse acqua. Cerchiamo un mondo normale diciamo. Non isolette. Quindi. Nel nostro viaggio nel quarto episodio. Navigheremo in mezzo all'oceano. Sto fermandoci su isolette ogni tanto a passare la notte. E poi riprendere il viaggio per trovare finalmente la terra. E ragazzi vi giuro non perdetelo. Ma dov'è la mia zattera? Eh esploda. Ma come esploda? Cioè ti è andato a schiantare con te. Aspetta eh. Dai rifaccio. Pensa. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Quindi ragazzi. Se riusciamo a uscire di qua. Ma ti è schiantato anche l'altro. Eh sei un genio. Ok. Aspetta. Via 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 via. Via ragazzi via. Aspetta. La walkman ce la lascio lì. Ah le canne. Ce l'hai la canna pesca? Ma porca puttana. Cioè non ce l'hai ma no. No. La canna pesca. Sì. No mi esploda la barca. Allora ragazzi avete. Penso che tutti quanti siete andati a vacanza una volta nella vostra vita. Avete presente quando bisogna partire e fare i bagagli. L'hai preso lo spazzolino. L'hai preso il Game Boy, il Nintendo, la Playstation, l'Xbox, il PC. Tutta sta roba. Noi praticamente siamo. Ci troviamo nella stessa situazione. Ecco. E' come gli risposa la zattera. Niente. Non si parte. Bene ragazzi. Siamo destinati a morire qui. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Vai ecco. Si fa. L'ho già fatta. Vai. Come cazzo? Ah forse. Vai l'ho già fatta. Ho capito fammi uscire. Beh hai fatto bene va. Dai. Tre due una via. Si parte. Ah. Che bello che sei. Gira il dito di me. Tu devi con le gambe fuori. Boh così. Tu stai camminando su una zattera. Io direi che possiamo anche terminare. Va bene ragazzi. Vi ringraziamo per aver visto il video. Guardate quanto è profondo. No forse non lo vedete neanche. Vabbè. Comunque vi ringraziamo. Vi ringraziamo per aver visto il video. Diciamo nel prossimo. Ci saranno. Sarà veramente la puntata più bella del mondo. Dove. Cercheremo la terra. E magari sosteremo su delle isolette. Abbastanza più grosse della nostra. Comunque. Comunque guardate. Cioè non è. Non pensavo ci fosse terra già subito così comunque. Però vedete è molto poco. Cioè non è nulla. Sono tutte isolette così. Quindi veramente speriamo di trovare. La terra. Quella terra. Terra ferma. Quindi niente. La terra terra. Eh. Cosa? Dimmi. Niente niente niente. Non è cavallato. Vediamo un prossimo video. E niente. Mettete mi piace. Come al solito. Se avete due braccia. Mi iscrivete. Ah ecco. Un'altra cosa. Ci dimentichiamo sempre. Riguardo alle top five. Sì. Se volete inviarci le vostre clip. Di colori di tutti. Tutti i colori di che volete. Basta che sia in HD. Anche fail. Ma vedete voi. E inviateli alle mail che trovate nella descrizione del canale. E noi vedremo se metterle. E poi dobbiamo anche ringraziare Taragna. Sì assolutamente. Che è colui che praticamente ci dà i codici. Non ha voluto sponsorizzazioni. Né sub box. Non ha voluto nulla. Guardate la isoletta ancora quasi più grossa. Possiamo quasi avvicinarci alla terraferma. Però questo accadde. E comunque. Boh dai. Vabbè niente. Ringraziamo anche voi. Mettete mi piace. Commenti. Ringraziamo quindi Taragna. Grazie mille. Vabbè niente. Comunque mettete mi piace. Preferiti. Se avete due braccia iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Non mancate. Ciao ciao. Ok ciao.